Due paesi nel cuore, quello d'origine, la sua terra, lo Zambia, quello d'adozione, che la vede protagonista da qualche settimana di una nuova avventura, e cioè l'Italia. Cleo Cibomba ha così voluto subito dare un segnale forte di integrazione nella città che l'ha accolta a braccia aperte, che l'ha votata, voluta, in consiglio comunale, e cioè la città di Sarno. E il suo essere stato investito da una carica così prestigiosa ha immediatamente fatto notizia anche nel suo paese, tanto che è stato molto semplice, più semplice del previsto, far arrivare a Sarno il ministro dell'ambiente dello Zambia, Dhani Chingimbu, insieme a un'intera delegazione composta anche dal segretario personale e dal consigliere economico del ministro africano. Cleo Cibomba spera che si possa aprire dunque da adesso una partnership tra Sarno, l'Italia più in generale e lo Zambia, soprattutto e anche a livello commerciale. Nasce un bellissimo rapporto, un rapporto che spero è un inizio di un'apertura, un'apertura dei popoli che hanno molte cose in comune prima di tutto e spero che molte cose si possano fare e molte cose insieme si possono creare. Personalmente ci tengo molto per il rapporto interculturale per i giovani, di dare la possibilità ai nostri giovani sarnese di essere più aperto, aperto alla cultura diversa. Sono convinto che i nostri giovani hanno molto e molto ricchezza la tradizione che può tranquillamente essere trasmesso anche a altre nazioni. Allo stesso modo io come Zambiana spero che riusciremo a portare anche la nostra parte della tradizione a Sarno. Un'iniziativa in sintonia con quella che è la linea dettata dal sindaco, cioè cooperazione e soprattutto interazione tra i vari assessorati. È un progetto che nasce da lontano, due anni fa un'associazione di Sarno che ho presieduto fino a pochi giorni fa, aveva avviato un rapporto di solidà internazionale con lo Zambia grazie anche al consigliere Chibomba, all'associazione Nuova Officina Ollus, insieme con altre associazioni di volontariato di Sarno. C'è stato questo progetto per due anni. Poi c'è stata questa bella esperienza elettorale di Cleopatra Borrell e la possibilità di avere, credo per la prima volta nella storia di Sarno, una rappresentanza di un'istituzione africana in visita ufficiale. C'è già un progetto medico che dura da due anni, gestito, come ricordavo, da un'associazione di Sarno, di volontariato e da altre associazioni che partecipano con noi. Poi ad esempio lo Zambia ha dei rapporti già istituzionali in Italia con delle università per scambio di docenti e di studenti, quindi una cooperazione che è anche universitaria e culturale. Grazie 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 Grazie